Quello che forse oggi manca è l'entusiasmo di cambiamento e soprattutto la volontà di essere protagonisti del cambiamento da parte di tante persone che erano disillusi dalla politica, dall'impegno, che avevano avuto tante frustrazioni. Uno dei segnali forti sono state la nascita dappertutto, spontanea, di comitati per Pisa Pia Sindaco, che poi si sono trasformati in comitati per Milano, che riunivano persone, donne, uomini, ragazze, ragazze, anziane che avevano un unico obiettivo. Ecco, dobbiamo ripartire da lì. Va bene la televisione, va bene la partecipazione nelle trasmissioni o i grandi eventi, ma è fondamentale far ripartire in ogni luogo, in ogni quartiere, in ogni zona, in ogni comune. Un comitato per Ambrosoli, presidente della regione, in un ambito di possibilità di cambiamento di tutto il paese. Proprio per questo è necessario far comprendere che questa è l'occasione buona per cambiare non solo la Lombardia, ma cambiare il paese. Io credo ancora molta nella differenza profonda tra destra e sinistra. La sinistra guarda l'eguaglianza, ma riesce a unire l'eguaglianza alla solidarietà e soprattutto allo sviluppo. Tiene conto del tema grossissimo del lavoro, non abbandona gli anziani. La destra pensa più alla finanza, pensa più ai potere, pensa più al potere come sostantivo e non al potere come verbo. Cioè potere, avere la possibilità di cambiamento. Allora io direi che si può sintetizzare in poche cose. L'agenda Monti o il governo Monti, non parliamo del governo Berlusconi che tutti sappiamo cosa ha combinato e che guasti ha dato al nostro paese. Monti ha voluto rappresentare colui che era in grado di dare credibilità al paese di sobrietà, di sviluppo e di equità. Credo che sia chiaro che sviluppo ed equità non c'è stata in quell'anno di governo Monti. Allora noi possiamo invece dare la speranza e la possibilità concreta che in una situazione di sobrietà e di credibilità italiana e destra del nostro paese, noi possiamo anche come centro-sinistra ampio e allargato dare sviluppo e soprattutto equità. Alcune scelte sono state difficili, abbiamo dovuto cercare di unire tutte quelle che io chiamo le forze sociali vive, che vanno dal volontariato anche alle fondazioni ad esempio che hanno disponibilità di soldi e cercare di unirle con progetti comuni, cercando di trovare i soldi là dove c'erano e cercando di supplire ai soldi che mancavano al comune. Di una cosa di sinistra. Noi abbiamo fatto qualcosa di sinistra, penso all'Unione ICA di Direzione dell'Unione Civile, penso a quello che si sta discutendo in questi giorni in Consiglio Comunale di dare la cittadinanza onoraria agli italiani che però sono italiani di fatto ma non sono italiani dal punto di vista della cittadinanza. Abbiamo dato risposta ai quesiti referendari che avevano avuto grande consenso. Aria C ed altre scelte abbiamo dato quel segnale secondo me di partecipazione nella città con tutte le difficoltà. Chiaramente rispetto alle aspettative anche io mi sento un po' carente, ma quando si creano sogni è difficile poi dare risposta ai sogni quando si trova una situazione differente da quella che si era preventivata. Grazie. Grazie.